Ciao ragazzi, benvenuti ancora con un nuovissimo video di Brazzocrew E oggi siamo qui insieme a Ice Principe per spacchettare Signori, quando si tratta di spacchettare non manco mai Non sono pacchetti di FIFA ragazzi, ma sono pacchetti oro premium adrenalin Sa che sono oro premium, premium oro Quindi si troveranno calciatori speciali, no? Speriamo, dentro questo pacchetto, dentro questa busta contiene una bustina premium con 10 cards Quindi 6 base, 3 speciali e un limited edition Un if c'è? Sicuramente Un if garantito? Sì, probabile A noi, a me, non ci frega niente perché non è la sponsorizzazione, non stiamo sponsorizzando panini Ma dobbiamo soltanto spacchettare e trovare dei giocatori Poi, ho delle novità legate a queste figurine che breve vedrete, magari dalla prossima settimana Dopo il Games Week Rimanete sintonizzati sul canale Sintonizzate sul canale, c'è il Games Week Venerdì, sabato e domenica Probabilmente starete vedendo questo video Sarò già al Games Week Quindi venite qui a trovare Perché subito dopo Io e Daniele, io e Ice Principe Andiamo in giro per l'Italia in tour Esattamente Con FIFA 19 Vi verremo a trovare Vi raccomando Vi sfideremo due contro due contro di voi Mischieremo le squadre Faremo un bordello Tirata Mamma mia Non vedo l'ora Non sappiamo ancora le date Però, raga, basta che ci seguite su Instagram e su YouTube E capirete subito dove andremo Ok? Esattamente Iniziamo lo spacchettamento? Vai, spacchetta Spacchettamento selvaggio Guarda, io adesso vi farci vedere prima questo Premium Oro E c'è questa bustina 10 perra 10 euro costa sto coso Madò Minchia Probabilità di... Probabilità di trovare Di farle per un alto? Speriamo alte Perché ancora non l'abbiamo mai trovata Allora Guarda, queste le apro io Poi abbiamo Arte 5-6 pacchetti qua da aprire Cerchiamo di essere più veloci possibile Perché la gente si scoccia Ok Allora Allora Vediamo se può fare Fai un massaggino Ambeo Ma le sai tutte te Mamma mia Mamma mia Sì Che c'è qua dentro? Oh, c'è un altro pacchetto Premium Oro Wow Attaccante Attaccante Primo attaccante Ciro Ciro Immobile Premium Oro Limited Edition Super mega rara questo pacchetto Questa carta ragazzi 99 d'attacco c'ha Guarda che bella che è Questo è un toti Secondo attaccante Mamma mia Magari Ronaldo Tira questo Cutrone Patrick Cutrone Premium Oro Limited Edition Non è che sono fighe ste figurine Vero sono proprio belle Tanta roba Poi Dai CR CR Difensore Un difensore Ah Un vero difensore Oh Florensino Bello de nonna Bello de nonna Alessandro Alessandro Premium Oro 85 Limited Edition Fenomeno 20 coins Cazzurò Con questi ci compriamo i FIFA coins Puoi utilizzare questa carta per rinforzare la tua squadra online Vedi retro oppure puoi metterla in gioco con i tuoi amici Vabbè Come prendo Quindi non vi faccio vedere il codice Se non me lo Ciulate Ciulate subito Poi abbiamo questo pacchetto qua Tanta roba Tre speciali Una Limited Edition Per forza Quindi vediamo di non trovare nessun Nessun doppione Guardate che presa speciale che fa Vado Attaccante vai Attaccante Ma le puoi vedere Facciamo metà Metà per uno Allora faccio così guarda Io ci ho Saffortunato Io però mi sa che vai a beccare Allora da questa Dove c'è scritto 5 coins Vado Attaccante Attaccante Pavoletti Ce l'ho al fantacaccio Si Grande giocatore Attaccante Di Francesco Non è il padre ma è il figlio E' proprio lui Portiere Seculin Seculin Non gioca perché gioca sorrentino Barella C'è un fantacaccio Giocatore fantastico E' forte Barella Molto forte Attaccante Oh Bernardeschi Però mi sa che questo è un doppione Comunque abbiamo trovato un giocatore della Juve Ok Bernardeschi Poi vediamo difensore Masiello Andrea Diciamo che sono stato abbastanza affortunato con Bernardeschi Adesso tocca a te Ok 5 coins In queste 5 coins Abbiamo Abbiamo un premium premium Puoi vincere la maglia della tua squadra preferita Quindi In questo caso Lazio-Milan Attaccante signori Attaccante Giriamo la carta speciale Speciale Scavichi Ma non avrà Supereroi Intoccabile C'è l'ho questa Signori abbiamo tre giocatori fenomenali Della Juve Tanta roba Tanta roba Sì Tanta roba 100-100 Quindi assoluto Fortissimo Mostro E' bellissima Le carte sono veramente fantastiche direi Bella Questo mi mancava Top player Bellissimo E poi abbiamo l'ultima L'ultima carta Che giriamo da quest'altra parte Attaccante Boom boom Addiritt No Liquid edition Non ando Cr7 Liquid edition ragazzi Vabbè basta ragazzi Il video è No 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 Ma viene a spacchettare sempre a casa mia Video finito ragazzi Io Perché l'80 Che è l'80 qua L'80 Che è l'80 qua 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 Questa è una regale L'80 qua No no Questo non ce l'ho Ma che ti sei figlio l'ho CR7 CR7 Questo è il clamoro Limited edition Raga bellissimo Non è manco il top player Questo è il limited edition Raga questa ce l'ho io E questa è la ronada La figurina Anzi ce l'ho io Guarda Facciamo giusto Perché non fa durare un secondo Sto video Facciamo Due tre pacchetti Oro rari Due a te Due a me Anzi Se come sto a finire Facciamo così Tre a te Due a me Facciamo velocissimo Un pacchetto per uno Ma chi sei Naruto Guarda guarda Scarta la carta Scarta Difensore Vittor Ugo Centrocampista Sandro Difensore De Maglio De Maglio Centrocampista Mandragata 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 ci stava ruolando Mandragata Mandragora Poi Poi Già Oh Per tutto insieme Screener E Nicolò Barella Barella Che già ce l'ho Draft Super draft E questo Questo è un giocatore del draft Sì Questo è un iron man Allora io non ce l'ho Scugnezzo Insigne C'è un segno C'è un tocco buono Oggi c'è un tocco buono Difensore Oh Marcano Marcano da Roma Non è il tocco buono Difensore ancora Oh Spolli Così Centrocampista Attenzione Oh Tanta roba Emre Can o Can 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 Tutti da Juve Tutti da Juve Sarà tra tutti i ventini Oh Eh Eh ormai si era visto forse Vabbè Magì Le danze messie Signori Dionisi Dionisi Idolo Bellissima questa carta Bella Speciale E poi ultima carta Da spacchettare È proprio La coppia Imbattibile Parasico Falcinelli E vabbè Passiamo Faccio io Faccio io Apriamo sempre come Come i veri uomini Fanno Ma non si apre Eh non si apre neanche Oh mannaggia Se vuoi ti aiuto Fai un massaggio Un massaggino così Guarda Qua le qualità Signori Attaccante Allora Prima attaccante Oh Ilic Ilic Signori Ti sto facendo fare il salto di qualità Si mi mancano tutte ste carte Altra Il cance Oh Paolo Di Bala Di Bala Oh tutti i juventini Stai a trovare Mettiamo una bella dritta Questa carta Perché ti ho trovato Ronaldo Poi ti ho trovato Di Bala Poi hai trovato Poi un intoccabile Tutti Intoccabile Difensore Caldara Ciò Non ce l'ho Io non ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho Il fantagaccio Portiere Portiere Stracoscia Basta Centrocappista Oh Sono diventato bravo Io Hai visto Sono diventato bravo Grazie Dazzo Che si Frank che si Poi ho visto già una carta figa Mi sa dà la Roma Difensore Razzuzi Difensore Muro d'acciaio Non ce l'ho Questa Asamoah De Vrij Qualità Doro Scrinial D'ambrosio Scrinial Asamoah Tanta roba Difensore E insieme Oh Stellamano Nostro e Florenzi Florenzi Questo è il doppione Ma questo forse no Bellissimo Bellissimo Tanto di difesa Tanta roba Mostro 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 Tocca a te Ultime Ragazzi ho già massaggiato Con una certa qualità Guardate Nel frattempo ragazzi Se non avete ancora messo Like Lasciato un like Per Cristiano Ronaldo Limit Edition Allora centrocampista Signori Partiamo subito Fortissimo Con Giaccherini 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 Poi Difensore Signori Abbiamo Baier Gioca Del Bologna Guardate bene Attaccante Andiamo Su Politano Ciò abbiamo Già Difensore Abbiamo Bastos Difensore Abbiamo Biraghi Che segna anche abbastanza La biraglia Il titolo infatti Abbiamo la coppia Pia Suso Cianadoglu E con questo Siamo qui per ringraziarvi Ringrazio il nostro amico È sempre un piacere ragazzi Trovare Ronaldo A casa degli altri Ronaldo Nel frattempo Ringrazio Principe Ringrazio voi Che avete seguito il video Fino a qui Grande ragazzi Lasciate dati i like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Passate sul suo canale Che sono usciti altri video Clamorosi Che abbiamo registrato prima Su FIFA E Al prossimo video Al prossimo video Ciao 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 Ciao